Famiglia Caravella, dove andiamo? Alla... Alla fattoria! Siamo arrivati! Donatella Longo, una dei componenti della famiglia Longo. Chi lavora nella fattoria Rovello? Mia mamma, mio padre, mia sorella, mio fratello e dei nostri collaboratori che oramai è come se fossero di famiglia. Fattoria Rovello, oggi sono venuto con la mia famiglia, ma che cos'è? Fattoria Rovello è un'azienda agricola multifunzionale, un vero e proprio esempio che stiamo cercando di dare, facendo capire a tutti che forse nel nostro territorio, che tutti dicono che è in degrado, di agricoltura si può vivere e si può vivere sicuramente anche con una buona qualità di vita. Che cosa si può fare la fattoria Rovello? Allora, la fattoria Rovello nasce come azienda agricola biologica, trasformiamo le nostre olive per anzana, realizzando un ole extravergine eccezionale. Da lì poi ci siamo fatti venire le idee appunto di multifunzionalità per provare a dare lavoro a noi e a tutti i nostri collaboratori in tutto l'anno. E quindi durante l'autunno e la primavera siamo una delle mete più ambite di Puglia per la nostra masseria didattica. Quindi si può venire in fattoria per partecipare a tanti laboratori e quindi imparare qualcosa che fa parte del nostro territorio e della vita rurale. Ho letto aperto tutto l'anno, confermi? Esatto, tutto l'anno, tutti i giorni, lavoro ce n'è e quindi non ci tiriamo indietro e siamo sempre qua attivi 24 ore su 24 anche perché noi siamo agriturismo. Abbiamo nella nostra struttura delle casette situate sul prato, tra gli olivi e tra i vari percorsi che portano a conoscenza di tutti gli animali del territorio e quindi siamo meta di molte famiglie come turismo rurale. Si può venire in fattoria per trascorrere un weekend, una settimana, dieci giorni tra la natura, partecipando alla vita campestre che facciamo noi, quindi coinvolgendo i bambini dalle attività nell'orto didattico alla terapia assistita con gli animali, a fare un giro a cavallo e coinvolgendo i genitori in un percorso culinario eccezionale con prodotti a chilometro zero. Inoltre siamo fatteria sociale. Inoltre siamo fatteria sociale.